Sono sfilati uno dopo l'altro di fronte al giudice del Tribunale di Arezzo, i pusher finiti in manette lo scorso maggio nel corso del Maxi Blitz al parco del Colle del Pionta. 14 quelli seduti sul banco degli imputati per tutti l'accusa e quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina infatti si è entrati nel vivo del processo con la prima vera udienza dibattimentale. Ha ascoltato il dirigente della squadra mobile Francesco Morselli, primo testimone eccellente che in aula ha illustrato la vasta operazione. Cinque mesi di indagini fatte di appostamenti, intercettazioni, agenti sotto copertura e telecamere nascoste piazzate nel parco, grazie alle quali le modiche quantità delle singole cessioni, 150 quelle documentate, si erano trasformate in vendite ripetute, potendo così ipotizzare il primo comma della legge antidroga. L'obiettivo è proprio questo, cioè cercare di dimostrare che lo spaccio non è un spaccio episodico, riferibile a poca quantità, ma è uno spaccio sistemico, organizzato, su un territorio che è capillarmente controllato e presidiato. Quindi è chiaro che in questi termini la condotta assume un peso e una rilevanza giuridica molto diversa. L'operazione si era conclusa con oltre 30 arresti e un radicale ripulisti all'interno del parco. Colle del Pionta non è più quello che era un tempo, gli scenari anche riguardandoli dalle immagini del processo erano veramente preoccupanti, rimane comunque molto alta l'attenzione nei confronti di questo tipo di reati, insomma, dello spaccio di sostanze, anche sul campo di Marte. La difesa adesso mira a dimostrare invece che i loro assistiti erano in possesso di modiche quantità di droga. Tutto sommato non sono stati elevati numeri mostruosi, quindi noi riteniamo che l'attività sia comunque inquadrabile nel piccolo spaccio di cui era l'articolo 73,5. E con il piccolo spaccio ovviamente prevede bene più leggeri. Ebbè, da sei mesi a quattro anni contro sei anni venti, direi decisamente più leggeri. La scorsa settimana, infine, erano arrivate le richieste della PM Giulia Maggiore per gli imputati che avevano optato per il rito abbreviato, richiesta per loro una vera e propria stangata con pene da sei ai sette anni.